Gentili telespettatori buona giornata vediamo le ultime notizie sulle elezioni di settembre le elezioni politiche del 25 di settembre Garfagna dice tanta gente a Pescara dimostra la nostra forza nella campagna elettorale dice la deputata degli slogan non è difficile portare avanti una proposta concreta di sviluppo come quella del terzo polo ed il fatto che anche qui a Pescara ci sia così tanta gente la dimostrazione che in questo paese c'è ancora spazio per un terzo polo dice durante il suo follato incontro elettorale a Pescara per il terzo polo di azione e Italia Viva Letta dice che Meloni esalta il modello maschilista di società così Letta continua a non parlare dei programmi del PD a non parlare di una sua visione per l'Italia ma a criticare e a parlare male dell'avversario cioè la sua campagna elettorale è parlare male dell'avversario barra nemico d'altronde che cosa gli rimane da fare non ha programmi non ha temi non ha visione per il futuro parla solo di Meloni e anche oggi parla solo di Meloni e dice chi dice tre parole Dio patria famiglia ne intende una sola patriarcato Meloni guida fratelli d'Italia perché con non contesta ma esalta un modello maschilista e reazionario di società femminile non significa femminista povero Enrico intanto la Meloni dice si cerca l'incidente la Lamorgese non fa il suo lavoro si sta cercando l'incidente la sesta volta consecutiva che i contestatori vengono fatti entrare in un comizio la Lamorgese non sa fare il suo lavoro e questa sera la chiamerò di nuovo per chiederle se si può fare campagna elettorale in questo modo una cosa è l'incompetenza ma qua poi posso pensare che lo stanno facendo apposta si sta cercando l'incidente la sinistra vuole gli incidenti per me possono strillare quanto vogliono non me li filo così Giorgia Meloni dal palco di caserta risponde ad un gruppo di contestatori intrufolati tra i sostenitori di fratelli d'Italia Letta dice che le parole di Emiliano sono sopra le righe ma poi è stato chiarito tutto perché Emiliano dice che le sue parole per come le intende lui per come si parla dalle sue parti per come lui è cresciuto dice che quelle parole significano lavorare duro a significano lavorare duro e come se io dicessi le cose più brutte del mondo e poi dico no ma per me significano che devi lavorare con più energia e poi ho detto un sacco di cose orribile no beh facile così insomma capisco che nei comizi elettorali davanti la folla con le bandierine allora senti che ti applaudono e le spari sempre più grosse sempre più più in alto però bisogno un politico dovrebbe ragionare prima di parlare perché la caratteristica del politico è proprio quella del ragionamento sulle parole prima di dirle perché il politico è proprio quel 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 lavoro dove le parole sono tutte tutto visto che tu non è che costruisci una macchina o stai facendo altro di manuale il tuo lavoro è parlare e se non pensi prima di parlare vuol dire che non va bene fare il politico non è il tuo lavoro e soprattutto se invece parli e dici delle cose a sproposito apposta allora è ancora più grave allora è ancora più grave naturalmente il comportamento della sinistra in questa campagna elettorale è responsabile del clima di odio che si è sviluppato nel nel paese perché dalla parte del centrodestra sì magari salvini berlusconi le sparano grosse sui programmi faremo questo quello quell'altro ma non hanno mai non hanno mai aizzato nessuno contro letta non hanno aizzato nessuno contro calenda di maio anzi realmente nelle appunti da salvini o berlusconi parlano o la meloni nei comizi parlano dei loro programmi di come vedono l'italia del futuro non impostano comizi e campagna elettorale contro qualcuno mentre proprio la sinistra che dovrebbe a dir poco vergognarsi ma lo dico in maniera giusta una campagna elettorale creando i mostri è pericoloso è pericoloso per l'incolumità di queste persone che vengono descritte come le peggiori del mondo che addirittura creeranno un problema la democrazia quindi incita un certo numero di italiani a difendere la democrazia pensate un po una cosa completamente inventata la cosa grave è che completamente inventata solo che c'è qualcuno che poi ci crede visto che il mondo è bello perché vario alla fine c'è qualcuno che ci crede e può prendere seriamente le parole di questi e di questi politici non politici maletta dice lui stesso emiliano ha poi chiaramente usato argomenti per rimettere quelle parole nel contesto lui le ha usate per dire semplicemente li faremmo faticare al massimo certo quella è una parola forte sopra le righe ma noi facciamo una campagna elettorale fatta sui contenuti e qui e qui ci sono le risate quelle del drive in no vi ricordate il drive in c'erano le risate ogni 10 secondi quelle finte no letta dice che fa la campagna elettorale sui contenuti ma ce li facesse sapere anche a noi questi contenuti perché non ce ne siamo accorti la sua campagna non vi ricordate quando quando questo emiliano ne diceva di tutti i colori sul centro destra lui era dietro che applaudiva due mani così era fiero del suo emiliano applaudiva avesse avuto quattro mani avrebbe applaudito a quattro mani ci sono i filmati quindi se se a fronte di quelle parole lui fosse rimasto serio dice ah beh guarda non ha condiviso poi dopo gliene avrà dette quattro no lui applaudiva con non l'applauso così ma faceva vedere a quelli che erano lì che il suo applauso avesse potuto avere un'apertura alare di 15 metri avrebbe fatto un applauso con un'apertura alare di 15 metri questo per farvi capire che le scuse postume fanno ridere i polli capiscono di averla detta grossa e allora fanno retromarcia ma fanno retromarcia solo perché solo perché potrebbe andare a dargli fastidio per la campagna elettorale non perché hanno capito la gravità del gesto ma perché potrebbe far perdere voti capito tutto lì non ci sono altri retropensieri hanno capito che hanno capito proprio niente grazie a tutti e buon proseguimento di giornata